Il Fight Camp è un'emozione, tante emozioni. Una esperienza un po' magica. È un momento fantastico per la vita delle famiglie e per i bambini. Il Fight Camp è un camp di sport e riabilitazione dedicato ai bambini con problemi del neurosviluppo, ma più nello specifico a bambini con una disabilità di paralisi cerebrale. Tutte le persone dovrebbero fare un camp, tutte le persone dovrebbero avere a che fare con la disabilità ogni giorno, ma facciamo finta che non ci sia. È un luogo pieno di gioia e esuberanza, tanta voglia di fare. È un grande respiro di speranza e di normalità nella specialità. Oltre ad essere papà, sono anche un papà felice, perché se vedo Leonardo felice, lo siamo anche tutti noi in famiglia. Oltre ad essere papà, sono tutti noi in famiglia.